La dottoressa Elena Agnello, che è responsabile del marketing strategico di Arsana, che vi ricordo Arsana è il marchio Chico, Prenatal e Pic, ci presenterà e ci parlerà del marketing digitale, quindi di un'esperienza molto innovativa e molto avanzata di marketing digitale, che è una delle numerosissime aree in cui il digitale si sta espandendo, che Luca ha toccato poco e quindi adesso la approfondiamo con la dottoressa Agnello. Grazie. Buongiorno e grazie. Io devo dire che stavo ascoltando con moltissimo interesse la sua riflessione e rispetto al momento serissimo, al contesto serissimo nel quale sono, io mi sento davvero una grande romantica e penso che questo sia un momento davvero bellissimo, di grandissima opportunità, perché per la prima volta quando ho iniziato a lavorare tanti anni fa si parlava di competizione, lettura dei competitor, le strategie apparenti dei competitor. La cosa bellissima per me, per il mestiere che faccio, è che la competizione non è sui competitor ma sulle relazioni, è sulle persone. La cosa che oggi è importante è comprendere ed entrare in dinamiche di relazione e da lì poi generare valore, che è un valore reciproco. Questo è il presupposto, io proverò a raccontarvi una parte dell'esperienza specifica che stiamo cercando di sviluppare, ma questo è il presupposto dal quale noi partiamo e sul quale stiamo lavorando per costruire un percorso che è marketing ma che poi in realtà va davvero ad entrare nelle dinamiche delle strategie dell'azienda e soprattutto nella trasformazione che richiede a monte, perché se cambia la relazione poi tutto il resto a catena deve cambiare. Allora, che è Arzana, ve lo racconto molto rapidamente, Arzana è un'azienda che sta a Grandate, che è in provincia di Como, è un'azienda che è stata fondata da Pietro Catelli, è un'azienda importante perché comunque sviluppa un fatturato nel 2013 superiore al miliardo di euro e voi che fate il mestiere che fate sapete quanto sia complesso in Italia a raggiungere queste dimensioni di scala. Lo fa con una piattaforma di business ed una piattaforma geografica estremamente ampia. I brand sono tanti e lavorano nella dimensione della cura della persona ma muovendosi in contesti anche molto ampi. Ci piace sempre ridere e dire che abbiamo Control, Kiko e Prenatal, la catena del valore la copriamo tutta in fasi anche diverse. Questo peraltro è una citazione di cui faccio omaggio. Abbiamo il PIC e abbiamo l'ICIA con delle dinamiche competitive molto diverse tra di loro. Io vi racconto di Kiko, ma vi racconto di Kiko per una regione particolare, non solo perché occupa la gran parte del mio tempo ma anche perché quello di cui andiamo parlando, questa trasformazione digitale del sistema di relazioni tra gli individui è particolarmente rilevante per le mamme. Kiko è il brand del bambino, l'essenza della marca è Kiko dove c'è un bambino e questo poi trasforma e guida tutti i processi, sia l'atto di pensiero e di prodotto che dinamiche di relazione e comunicazione. Dicevo, Kiko è particolarmente affascinante perché il target rispetto al quale le persone, la fascia, il momento di vita rispetto al quale noi andiamo a posizionarci è assolutamente peculiare. Stiamo parlando delle mamme, delle mamme e delle moms to be, dei parents to be, usiamo dire. Questo vuol dire che stiamo parlando di una base di clienti, di consumatori che è in continuo mutamento e soprattutto è costantemente rolling perché Kiko diventa rilevante per i consumatori e per le persone nel momento in cui si apre un progetto genitoriale sino a che poi il bambino cresce. Il core target sta nel meno 9 più 36, quindi un lasso di tempo estremamente breve rispetto al quale voi me l'avete insegnato bisogna capitalizzare il valore del cliente. Perché? Perché l'acquisizione è complessa, perché tutte le cose che sapete che vi insegnate. Questo significa che c'è una... torno a dietro un secondo... vuol dire essere presenti nella rilevanza, saper costruire l'awareness in maniera importante perché comunque io devo essere nella mente del consumatore prima che il bisogno nasca e Kiko è un brand che ha più o meno, arriva in termini di notorietà a toccare il 98%, quindi siamo assolutamente un brand che è nella testa di tutti. La complessità nasce nel momento in cui questa relazione si deve costruire. La piattaforma di cui parliamo, le persone di cui parliamo, sono in assoluto quelle che più si sono sensibilizzate ed evolute, anche persone donne, scusate, e hanno saputo utilizzare per trasformare la propria dimensione di relazioni sociali attraverso lo strumento digitale. Questo significa che le mamme digitali sono diventate e hanno per caratteristica una quota di innovatrici, quelle che nel marketing si chiamano prosumer, che è più alto rispetto alla media dei consumi, della normale distribuzione. Le mamme digitali sono tante perché ogni anno nascono più o meno 500.000 bambini in Italia, che è oggettivamente molto poco, mentre le nuove mamme digitali sono circa 300.000 individui l'anno, secondo i dati Nielsen più ultimamente stimati. E sono estremamente potenti ed influenti perché le donne, soprattutto le madri, soprattutto in una specifica fase della vita, sono estremamente connesse. Quello che era la dinamica di relazione dei giardinetti è diventato un modello molto più evoluto, che è capace di influenzare e muovere il pensiero in maniera importante, su temi diversi. E questa ricerca di relazione si manifesta nel modo in cui queste donne, di cui io ho fatto parte, faccio ancora parte in una fase diversa della maternità, condividono e contribuiscono alla diffusione. E sono estremamente critiche e sono estremamente influenti. Quindi da che cosa siamo partiti? Siamo partiti dalla necessità di attivare attraverso un contenuto, vi racconto questo pezzo di storia, potrebbe essere un'altra, ma ho scelto questa, per cui siamo partiti da un contenuto, siamo partiti da una storia e da lì abbiamo iniziato a costruire. C'è stato un primo atto coraggioso di cui io sono molto grata all'azienda per la quale lavoro, perché non è semplice, abbiamo deciso di intervenire nella produzione di un contenuto televisivo. Ci siamo affiancati ad una casa di produzione, abbiamo prodotto un contenuto che andasse a rappresentare anche una restituzione di servizio, da una parte, ma anche la declinazione di contenuti di marca che sono rilevanti per le persone di cui parliamo. Quindi abbiamo sviluppato un format televisivo, abbiamo sostenuto la produzione di un format televisivo che si chiama Ostetric quando nasce una mamma, che è andato in onda su Real Time, in Prime Time, e abbiamo quindi sviluppato un contenuto esclusivo su una piattaforma tradizionale, ancorché innovativa rispetto al target, perché stiamo parlando di Real Time e non di Canale 5, con tutto rispetto per Canale 5 e colleghi. Ma poiché non è sufficiente produrre un contenuto, perché il contenuto non stimola un'attivazione, ha delle dinamiche di relazione che alla fine devono portare me, brand, ad attivare la relazione, a comprendere i flussi di ritorno per andare a canalizzare quello che io sto costruendo alla fine di questo lunghissimo percorso, nel fatto che sarò più importante, più vicino nella testa, e viva Dio, spero anche di venderle qualche ciuccio in più, insomma. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito la centralità del contenuto, perché è vero, in un sistema in cui il valore si sposta sulla conoscenza, sulla relazione, effettivamente uno dei primi elementi che diventa importante per diventare poi rilevanti è proprio offrire dei contenuti, delle restituzioni, offrire conoscenza. Attraverso un sistema che è andato a legare i punti di contatto, i luoghi di conversazione, facendoli convergere su quello che è un topic, ad un certo punto diventa un topic, che è il programma televisivo, che peraltro è stato anche oggetto di polemiche da parte delle nostre corporazioni, perché in Italia poi sapete meglio di me come funziona, però è stato un elemento di attivazione della relazione con queste donne. Le blogger sono dei soggetti particolarmente importanti di cui tenere conto, ma tutto questo che abitualmente si pensa venga gestito solo in un'ottica un po' calda di relazione e comunicazione. In realtà deve poggiare su una visione strategica estremamente strutturata che sia in grado di generare poi il valore che merita essere restituito perché gli investimenti sono ingenti e nella logica del trade-off abbiamo bisogno di capire dove andarci a direzionare. Quindi dal contenuto televisivo, da tutta la fase di attiviazione iniziale pre-on-air sui nostri canali, sui canali dei nostri partner, con tutto il percorso che è stato lungo le tre fasi, il pre-on-air, l'on-air, il post, abbiamo poi fatto leva su quello che è un ecosistema. Abbiamo lavorato su un ecosistema che è attivabile, che è connesso nella misura in cui io ho qualcosa di rilevante da raccontare. E attraverso questo ecosistema che vede ovviamente la centralità dei nostri asset, che pure sono integrati con gli asset dei nostri partner, abbiamo lavorato su diversi touch point con l'obiettivo evidentemente di entrare in una dinamica di conversazione che è tutta quella fase che normalmente si vede, si sente. Oggi quando lavoriamo sui contenuti televisivi la componente più importante è proprio dedicata alla fase di narrazione, di racconto che avviene sulle diverse piattaforme, in particolar modo nel mondo social. con l'obiettivo di andare a convogliare tutto questo rumore, tutto questo senso che si sente in un contenuto, in una relazione. Questo è per fare dialogo. Tutto per stringere, per portarci, per andare poi in ultima analisi, attraverso un processo complesso anche a lavorare proprio per fare in modo che questa relazione, questo contenuto sia in qualche modo intelligibile. Questo è uno degli asset, adesso mi piace raccontare questo, ma è solo uno degli asset che serve per andare a costruire questo sistema, che è un sistema neurale che deve avere poi delle risposte. E la vera difficoltà che io personalmente mi sono trovata ad affrontare nel lavoro che faccio e nel lavoro che ho fatto non è tanto la capacità di immaginare, come si diceva prima, perché la capacità di immaginare esiste e a volte la creatività va anche lontano. Il vero tema è riuscire a tradurre l'immaginazione, il vero tema è avere una cerniera che tra l'immaginazione ci porta a realizzare le cose e a far sì che ci servano. Questa è la sfida più difficile che le persone che fanno il mio lavoro si trovano di fronte, perché quando io, qui racconto un pezzo della mia vita, un pezzo della mia esperienza, quando io cerco di convincere, perché io devo convincere i miei clienti interni, quindi l'amministratore delegato, ma anche i miei colleghi, ad entrare in un progetto, io l'ho immaginato, ma il vero tema è tradurlo, e il vero tema è tradurre, far sì che poi alla fine le cose si realizzino e che effettivamente quello che raccontiamo, che scriviamo nelle presentazioni da consulenti o da manager si possa effettivamente realizzare. E questa è la sfida maggiore, per questo abbiamo bisogno di trovare degli strumenti che ci consentano, in un pensiero ampio, di andare poi a convertire e concentrare le azioni su un punto specifico. Uno degli asset su cui lavoriamo, su cui stiamo lavorando, si chiama Kikoclub, ed è una piattaforma sostanzialmente di digital loyalty. Netto-netto la chiamerei così, utilizza meccanismi di gamification, per cui attiva dei processi di ingaggio in un sistema che è un ecosistema, che è integrato e che è complesso. Io sto andando veloce così se c'è qualche commento, anche perché se no diventa noioso. È una piattaforma appunto di digital loyalty che attraverso dei meccanismi di gamification ci consente, grazie a contenuti che vengono attivati e che sono, come dire, scerati in un ecosistema, di andare ad attivare una relazione. Una relazione che da una parte attiva, come dire, la consumatrice nel compiere delle azioni, perché è un sistema di call to action che, come sapete, la gamification usa gli schemi del gioco per attivare una relazione, raccogliere un'informazione, ci consente di entrare in una logica di conoscenza dove c'è ovviamente una dimensione di scambio. Uno dei temi molto difficili, per esempio, della categoria nella quale lavoro io, è capire come andare a raccogliere, clusterizzare e sistematizzare le informazioni di un target che è assolutamente molto fluido. Quindi una piattaforma che, partendo da una call to action che è molto calda, molto emozionale, progressivamente conduce il consumatore al proprio interno, ci fa ottenere delle informazioni attraverso appunto un sistema che noi chiamiamo un sistema di missioni e che ci consente uno di compiere azioni diverse, che vanno banalmente dalla condivisione delle informazioni, dall'acquisizione del dato, ma anche, in ultima analisi, all'attivazione di strategie che hanno poi come obiettivo quello di condurre sul punto vendita le persone, in ultima analisi. Il premio, cioè un meccanismo di rewarding, che è molto semplice da un certo punto di vista, perché al compimento di una serie di azioni, di una serie di missioni, viene riconosciuto un premio, che è un premio piccolo di valore, ma l'importanza fondamentale di questi meccanismi sta nella relazione, cioè sta nel fatto che alla fine si attiva una community che è particolarmente attiva, che sviluppa informazioni, sviluppa dati che rispetto a tutto il resto dell'universo di informazioni sulla quale ci troviamo ad operare sono più focalizzate, ancorché integrate nel sistema complessivo e soprattutto ci permettono a quel punto di attivare in maniera puntuale le persone che ci interessa, che compiano delle azioni. Io vi porto qualche KPI, avete visto che i premi sono molto bassi, parliamo di coupon, che stiamo parlando di 10 euro, 5 euro, un sistema di punti, tuttavia la reazione è molto importante, molto rilevante, molto positiva. Noi abbiamo un open rate che è superiore al 90%, quindi comunque questo significa che quando interagiamo, quando ci proponiamo, poiché il contesto è rilevante, l'informazione è stata attivata e la relazione effettivamente in quel momento ha un senso, le persone rispondono. Il click through rate è del 26% tra gli iscritti, ma la cosa più importante sulla quale stiamo lavorando è quello di fare in modo di integrare tutto questo flusso di cristiani che si muove da una dimensione all'altra per cercare di costruire una base complessiva che abbia senso. Noi abbiamo un sistema di distribuzione che integra una quota importante di punti vendita diretti, punti vendita diretti come tutte le realtà di retail che si rispettano hanno delle loyalty card, ecco, l'esercizio è cominciare ad integrare le informazioni e fare in modo che tutto quello che io posso conoscere attraverso dei comportamenti si possa poi integrare nella lettura dei dati delle carte digitali, perché le carte digitali tipicamente forniscono informazioni su comportamenti d'acquisto che non sono però correlati e correlabili ai comportamenti che poi hanno condotto alla realizzazione di questo acquisto, che dal mio punto di vista è il tema, perché mi interessa capire perché non solo chi sono anni e decenni che ci indiciamo che i consumatori, le persone, il target non deve essere letto su una logica associodevo, adesso è ancora più incasinato, però scusate, è ancora più complesso perché le dimensioni sono tante, ma gli strumenti che oggi ancora sono prevalenti agiscono se va bene secondo queste logiche, che sono delle logiche tradizionali. Adesso ve lo risparmio, abbiamo fatto un test e in dieci settimane abbiamo avuto 50.000 missioni completate, tutto questo per dire che il nostro è un target assolutamente peculiare, è un target che è più di altri, sensibile all'attivazione secondo certi meccanismi, ma il valore che noi possiamo portare all'azienda staccandoci dalla logica di fare delle operazioni di comunicazione in one shot, ma mettendole in un ecosistema dove ogni cosa costruisce per lo step successivo e usa lo step precedente e ci permette di lavorare in questa direzione è assolutamente impattante, cambia tutto, è la cosa più bella che io posso affrontare per il mestiere che faccio, genera all'interno delle aziende delle grosse complessità perché presuppone che cambino moltissimo i modi in cui si fanno le cose, si attivano e si gestiscono le conoscenze. Quindi questo poi è un bel mandipancio per i miei colleghi, io sono un bel mandipancio per i miei colleghi, però alla fine il fatto di poter, adesso scorro velocemente perché davvero non vi voglio annoiare, sono delle slide anche un pochino di dettaglio, ma per darvi la sostanza di quello che c'è, quando noi ci rendiamo conto che comunque le risposte sono tante, abbiamo bisogno di tracciarle perché se c'è l'80% dei miei iscritti che mi chiede un coupon, io ho necessità di tracciare quell'individuo nei suoi comportamenti e nei suoi step successivi e questo richiede poi un allineamento dei sistemi aziendali, la capacità di leggere i dati quando tornano e di dare delle interpretazioni coerenti, quindi stabilire il sistema di analisi a monte e tutto ciò che ne deve essere conseguente. Altro elemento fondamentale è la possibilità di integrare le informazioni nostre con le informazioni terze, abbiamo centinaia di migliaia di ID che nascono dalle carte fedeltà, abbiamo centinaia di migliaia di persone che interagiscono con noi attraverso le nostre pagine Facebook, considerando che quando io parlo al mio core target ci sono 1.500.000 individui, la somma di questi mi può dare, mi può dire davvero moltissime cose se però le attivo e costruisco gli strumenti. Quindi banalmente si comincia dal piccolo per espandere, una delle cose che stiamo facendo è clusterizzare per esempio le meccaniche di attivazione, ovvero le emissioni, su cluster ad hoc per vedere come rispondono. Il supporto dell'osservatorio Chicco, scusate non l'ho citato, ma tutta la fase di costruzione del contenuto poggia su una reason why importante, che è il fatto che ci sono delle aree di esperienza, di competenza all'interno della nostra azienda che sono oggettivamente distintivi, perché poi qualcosa di distintivo bisogna averlo davvero. E quindi l'osservatorio Chicco è un'area di competenza all'interno del quale noi lavoriamo sia per la costruzione degli insight che guidano poi al prodotto, sia per comprendere quelle dinamiche che non sono ancora insight di sviluppo, ma che sono conoscenze e che possono essere trasferite. Basta, la mia storia è questa, posso parlare per almeno altre 12 ore, però mi fermo. Il punto fondamentale è che per chi fa il mio mestiere è bellissimo, veramente io mi diverto tantissimo. E' ovvio che questo porta a dover affrontare, è un po' come attivare l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, perché comunque abbiamo bisogno di grandissime immaginazioni, perché il sovraccarico rispetto alle persone è tali per cui bisogna davvero avere qualcosa da dire, bisogna davvero essere attivatori di qualcosa che è interessante. Dall'altra parte però abbiamo bisogno di razionalizzare e implementare in maniera strutturata e solida tutta quest'area di immaginazione, quest'area destra, che alla fine è quello che ci permette di riuscire a portarci a casa il risultato. Basta, grazie.